Ciao, allora oggi guarderemo insieme quanto è semplice lavorare con noi e soprattutto quante offerte e vantaggi Mirabilande è riservato per le agenzie di viaggio. Se non sei ancora partner di Mirabilande Vacanze, diventarlo è semplicissimo, infatti basta registrarsi compilando il modulo di richiesta, dopodiché riceverete subito username e password con i quali potrete fin da subito vedere tutte le offerte, pacchetti a prezzi imbattibili e prenotare subito online. Allora la prenotazione è semplicissima, inoltre i vantaggi sono tanti, ad esempio potrete pagare al netto, usufruendo di uno sconto speciale pari all'8% che è riservato esclusivamente alle agenzie di viaggio e inoltre non dovrete neanche mettere la fattura di commissione. Inoltre ci sono tantissimi diversi pacchetti e soluzioni per far fronte e avvicinarsi sempre di più alle esigenze dei vostri clienti, infatti potete scegliere tra l'alloggio in hotel a tre stelle, a quattro stelle oppure scegliere anche diverse tipologie di camere, le camere a tema dinosauri o pirati, pensate proprio per le famiglie e i più piccini. Inoltre è possibile anche, grazie al pacchetto Mirabilandia Village, alloggiare invece in confortevoli appartamenti oppure con il pacchetto parchi mix potrete acquistare oltre all'ingresso al parco di Mirabilandia e anche altri ingressi ad altri parchi della riviera romagnola. Calcolare un preventivo è semplicissimo, allora scegli l'offerta, inserisci la data di arrivo, il numero di notti, il numero di persone e naturalmente il trattamento che si desidera. A questo punto clicchi su cerca hotel e adesso vedrai in tempo reale tutte le disponibilità e tutte le offerte, quindi potrai scegliere tra due strutture, tra quelle prime elencate ad un prezzo base oppure con un piccolo supplemento avrai la possibilità di scegliere ulteriori alberchi in altre località semplicemente cliccando su scegli località. Allora, scelto l'hotel potrai naturalmente personalizzare la vacanza per il tuo cliente e quindi puoi aggiungere ad esempio dei servizi all'interno del parco come ad esempio un menu ad un prezzo eccezionale oppure l'ingresso a Mirabilandia o altrimenti è possibile anche organizzare un vero e proprio tour all'interno anche di altri parchi della nostra riviera. Poi vuoi dare la possibilità al tuo cliente di avere date flessibili o comunque poter cambiare le date del suo soggiorno? Questo è semplicissimo, basta fare vacanza flessibile. In questo modo il vostro cliente potrà tranquillamente cambiare la sua data di soggiorno fino a tre giorni dal prenotamento. Una volta completato il pagamento ed effettuata la prenotazione ti invieremo il voucher con i dati dell'hotel scelto, i servizi acquistati, i biglietti per l'ingresso al parco che solo con Mirabilandia e vacanze valgono per ben tre giorni consecutivi. Loggandoti al tuo backhand inoltre potrai visualizzare tutte le prenotazioni confermate, quelle che sono ancora in opzione ed è possibile scaricare tutti i documenti delle fatture che sono sia della stagione in corso che di quella dell'anno precedente. Inoltre ricorda che per qualsiasi bisogno e necessità c'è un ufficio posto proprio all'ingresso del parco di Mirabilandia, sempre disponibile per far fronte alle vostre esigenze a quelli dei vostri clienti. Come hai visto, prenotare è semplicissimo e a questo punto hai tutte le informazioni che ti servono per prenotare una bellissima e indimenticabile vacanza per il tuo cliente e ovviamente all'insegna del divertimento.